A me piace e piacerà sempre riuscire a schierare la squadra che penso possa essere la migliore per la partita che andremo ad affrontare. Come ho detto qualche tempo fa, non ci saranno mai bocciati e promossi, ci saranno delle scelte da fare perché siamo tanti ragazzi bravi e a disposizione. E questo per noi deve diventare un punto di forza e per il momento ne stiamo approfittando perché spesso e volentieri chi è entrato sicuramente ha fatto sì che la partita andasse come volevamo che andasse. Cristian conosciamo benissimo quelle che sono le sue qualità, è un giocatore importante di questa rosa. Ci è mancato tantissimo al di là dei risultati perché non credo che un giocatore possa determinare l'andamento dei risultati della propria squadra ma sicuramente può influire nel raggiungimento di essi. Quindi sappiamo quelle che sono le sue qualità, che sono grandissime, siamo contenti che è tornata a disposizione seppur da pochi giorni e lo avremo come un'arma a nostro favore perché sicuramente siamo contenti che è rientrato con noi. Abbiamo ancora qualche ragazzo con qualche piccolo problemino, voglio prendere tutto il tempo a disposizione che non è stato tantissimo perché per la prima volta abbiamo fatto tre partite in una settimana. Abbiamo da recuperare energie, sono convinto che tutti, sia chi ha giocato di più che chi ha giocato di meno, ha le energie fisiche che servono per disputare questa partita. Sono importantissime però energie mentali da recuperare perché sono quelle che determinano l'andamento di una gara. Sotto quel punto di vista mi voglio prendere tutto il tempo che ho a disposizione per fare le scelte migliori. Noi vogliamo provare a fare quello per cui ci stiamo allenando dall'inizio, da quando siamo insieme. Ovviamente poi non siamo da soli in campo e non possiamo sempre decidere tutto. Quindi ci sono anche gli avversari, sono gli avversari che a volte ti possono mettere in difficoltà, che riescono a farti soffrire. Ma la bravura nostra deve essere quella nella testa di riuscire ad avere le idee chiare da fare, sia quando abbiamo la palla sia quando non ce l'abbiamo. Ci piace tanto provare ad essere offensivi, delle volte ci riusciamo, altre volte gli avversari non ce le permettono. Ma la nostra bravura deve essere quella di essere presenti nella gara, nell'arco dei 90 minuti, perché è uno step difficile da raggiungere. Ma noi ci vogliamo arrivare perché fare la partita nella sua pienezza sicuramente è la cosa più importante che c'è. Abbiamo visto gli avversari, conosciamo le loro qualità e sicuramente guardandoli sprigionano un gioco vivace. Con entusiasmo, offensivo, hanno fatto dei bei risultati perché hanno incontrato anche delle squadre forti. E sono bravi a seguire l'idea che è del loro allenatore, di una squadra offensiva che prova a fare sempre la partita. Al di là di questo, insomma, noi lavoriamo su delle nostre cose, crediamo su quello che facciamo quotidianamente e vogliamo riproporlo al di là di quello che sono gli avversari, come ho detto poco fa. Mi piace di più però, voglio dire, questo pensiero, di giocarti la partita contro una squadra che si era giocata. Ma credo che, l'ho detto ai ragazzi, poco dopo la partita del Venezia, difficilmente credo che riusciremo a riproporre una partita del genere in cui nei 90 minuti, credo che per larghissimi tratti, siamo stati nel centrocampo degli avversari. Insomma, una partita strana, atipica. Difficilmente, sono certo che la ritroveremo. Forse domani troveremo proprio una partita diversa, perché sappiamo che gli avversari amano venire a fare pressing, amano provare a giocare, amano essere offensivi. E noi, al di là di quello che ci troviamo di fronte, dobbiamo essere bravi a provare a fare quello che sappiamo fare, leggendo bene quelli che sono i momenti della partita, sapendo quando è possibile fare certe cose e quando invece l'avversario non te lo permette. Allora bisogna farne delle altre. Morleo è a disposizione perché, come tutti gli altri, sicuramente sta attraversando un ottimo periodo e non so ancora se sarà nella scuola di titolari, però è a disposizione come tutti per poter essere presente nella gara, perché mancheranno Salvatore che non ha recuperato dall'infortunio e Sabelli che sta continuando nel suo percorso di riabilitazione e Berardi che ancora non ha recuperato. e De Lucia che verrà con noi, però non credo che ancora possa essere a disposizione.